Buongiorno e buonasera, qui sono Yoshi e siamo nuovamente su Void Hellsward L'ultima volta abbiamo fatto un video di prova per vedere com'era la qualità Oggi ci sto provando ma porco cane che fatica perché non riesco a fare le cose come si deve Nel senso che continuano ad avere problemi o di qualità o di registrazione Una cosa assurda ragazzi Perciò vediamo come viene perché Intanto sembra essere a posto E come Ok con cosa cazzo mi stanno prendendo questi ragazzi Ma dai Ow Grazie per la visione! Perché adesso blinco? Oh ma... Quando si mette a morire il rebello? Ok Boh, da una certa si è messo a blincare, non so che è successo Oh beh, oh beh, oh beh Andiamo avanti Scusate se non parlo tantissimo durante i PvP ma sono... Bisogna stare concentrati ai ranghi alti Se no la perdi subito Oh Un'Ara come me ma di diverso classaggio, ok Questo è un deranker Vabbè, questo era deranker Non ho voglia di avere a fare quei deranker Oh, ancora tu Ero dietro però Stupide Stupide Ah, fottutissimi Stoici Aia Vabbè, non riesco anche a breccarlo Cos'è, dai Odio questa particolare Stormtrooper Porco Giuda Strapompate e continuo a incrociarla I nervi che mi dà quella lì No, ancora Meglio che lo salto questo, va Ok Ho saltato il... Il deranker Vediamo come va Spero di non distoprire troppe volte Perché se trovo continuamente il deranker Mi è da un po' uno schifo il video Ok Moral scoone Chi sei Merda No Mi tiro sempre male Ma sei imbecile Odio quando succede Che mi parte il counter Ma non... Cribbio Ok, va bene Va bene Va bene No, perché? 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 Oppa Cosa è successo? Yo No No, non ci siamo Madonna Nega Calmati amico Giuro Si gira ogni volta Fini in cin sono sempre dall'altra parte Ma non è un problema Praticamente ha vinto Devo stare un po' attento Perché farlo contro i muri Non è... Fare contro i muri Quella roba lì Non è... Non è sicuro Devo ricordarmelo Madò 220 minuti Siamo già 8 minuti 220 mega Siamo già 8 minuti È una roba assurda ragazzi Pesano tantissimo Ma i sacrifici che fanno Lo faccio per voi Beh Ma sei Ok È caduto di sotto Oh Calmati C'è la beffa C'è la beffa Ok 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 No Merdoni Se non avessi saltato Non l'avrei presa Mamma mia Ok Ok siamo già a 300 mega E siamo attorno ai 10 minuti Quindi direi che Mi fermo qua Questo è stato un episodio un po' blando Ma almeno credo sia avvenuto bene Perciò Per il momento è tutto Se il video vi è piaciuto Se vi volete vedere di più Lasciate un commento Mettete mi piace O iscrivetevi al mio canale Detto questo Però abbiamo concluso Perciò Ci rivediamo Come sempre In un prossimo video Bella